ciao amici benvenuti e bentornati nel mio canale oggi parleremo di Didwood X1 Omni è un robot per la pulizia della casa con una potenza di aspirazione di 5.000 pascal e 180 giri al minuto delle sue spazzole all'interno ha due servatoi uno per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca 4 litri entrambi automaticamente svuota il suo contenuto nella vaschetta sporca oltre alla rotazione dei 180 giri al minuto il nostro robot di ecovass permette anche di aspirare oltre che lavare con i suoi due mop videocamera integrata all'interno quindi si può osservare quello che il drone vede true mapping 3d quindi riesce a visualizzare anche gli ostacoli all'interno della casa e prontamente a devitarli vi lascio il link in descrizione sia di amazon sia del produttore adesso andiamo direttamente ad aprire il packaging e poi andiamo a vedere in maniera un po più approfondita il nostro robot il nostro packaging abbastanza ingombrante pesa più o meno una quindicina di chili e viene formito in questa pratica tra virgolette confezione di protezione dentro ha le sue maniglie per poterlo trasportare mi conviene farlo in due perché pesa parecchio andiamo ad aprirlo per prima cosa troviamo l'istruzione di protezione si prega di eliminare la stazione come mostrato dentro troviamo prima di tutto la sua base d'appoggio dove all'interno ci sono le vaschette per inserire l'acqua qui di fianco all'interno troviamo il robot tiro fuori prima il robot cartonato all'interno di protezione altro pezzo adesso la nostra base può essere sollevata questo nostro è il cuore diciamo del nostro robot ecovacs all'interno se lo studiamo dall'alto qui dentro troviamo le sue vaschette ci sono tutti gli algolini di protezione da togliere questo è il primo serbatoio dell'acqua pulita questo è il serbatoio dell'acqua sporca vi ricordo che sono 4 litri ognuno sotto invece c'è il dispositivo di aspirazione nell'unità centrale all'interno troviamo la nostra spazzola qui di fianco troviamo la nostra spazzolina di pulizia che si va ad incastrare qui dentro e sotto troviamo i due mop 1 e 9 tutto va reinserito all'interno del botto allocio quindi vaschetta di acqua sporca vaschetta dell'acqua pulita concentriamoci ora sul robot una volta aperto troviamo cosa le due spazzole quelle che proprio puliscono destra e sinistra in questo alloggio superiore troviamo le spazzole per la polvere di pulizia quest'altro angolo la caveteria per agganciare la base le sue istruzioni all'interno il sacchetto di aspirazione perché vi ricordo che comunque lui lava ma aspira e qua è completamente vuoto questo è come viene inserito all'interno il robot nelle sue protezioni è molto protetto con tutti gli angoli antiurto ci prestiamo ad aprirlo ecco che troviamo il nostro robot nella tutta la sua bellezza questa è la versione bianca quindi sopra troviamo questo colore argentato frontalmente come vedete avete la videocamera e i sensori il laver in testa per prima cosa bisogna tirar via la protezione di testa vi dice di andare a togliere le protezioni di fianco questa è la vaschettina dove va a aspirare lo sporco il pulsante di accensione è questo di colore rosso questo invece l'aggancio al wifi della casa si mette su la sua protezione giro nel retro per vedere se c'è altro da agganciare la risposta è no ok lo tengo in testa in giù prendo i mop sono magnetici quindi li posso staccare o attaccare come voglio in più vado a prendere l'antipolvere e li vado ad agganciare sempre in testa vi ricordo i punti essenziali di questo ecovacs x1 omni 180 giri al minuto abbiamo la possibilità di avere il 3d mapping la videocamerina frontale riesce a capire direttamente se ci sono degli osservati ostacoli e a schivarli riesce a pulire fino a 320 metri quadri di spazio all'interno ha una batteria che dura fino a 240 minuti quindi devo dire che è veramente ma veramente ottimo può essere utilizzato con il suo assistente vocale eco o altrimenti è possibile utilizzare un altro assistente vocale di terze parti quali possa essere google altrimenti siri o alexa la sua base è molto grande vi ricordo che mantiene 4 litri di acqua e quindi 4 litri di acqua pulita 4 litri di acqua sporca automaticamente se in batteria scarica lui va a riposizionarsi nella sua casetta si torna a ricaricare va a svuotare quando secondo lui le spazzole sono sporche quindi va dentro nella sua casettina pulisce le spazzole svuota l'acqua ricarica l'acqua e riparte si trova in commercio più o meno a un prezzo di mille euro il prezzo è abbastanza importante ma è considerato uno dei migliori della categoria noi adesso ci appresteremo a collegarlo nella sua app l'app di ecovax fargli fare la mappatura della casa dopo di che vedremo per l'appunto come lava con le sue spazzole dentro nella confezione trovate altre due spazzoline di ricambio quelle che vi ho fatto vedere prima qui di fianco nella zona centrale queste due qui sono due mop di ricambio oltre che alla spazzola di pulizia quando aprite il coperchio avete tutte le informazioni per la configurazione quindi vi dice la distanza un metro e mezzo di fronte e 0,5 metri di fianco mezzo metro di fianco un metro e mezzo di fronte mezzo metro di fianco di spazio perché il robot possa andare direttamente in casetta fatto questo si va all'apertura dell'accensione del prodotto tramite il pulsante che si trova all'interno quindi tirando via la copertura tirando via la copertura del nostro robot questo è il pulsante di accensione rosso va abilitato e lui è pronto per la configurazione direttamente online pesa anche un pochettino non è leggerissimo ha tutti i sensori anti caduta e anti urto quindi non mi va a rovinare nessun tipo di mobile anche con la videocamera riesce ad andare via tranquillamente per l'appunto e vi può fare anche la video sorveglianza la videocamerina frontale può essere utilizzata come video sorveglianza all'interno della casa i pulsanti che troviamo di fronte alla casetta sono apertura cioè inizio di pulizia svuotamento o uscita del programma dopodiché basta inquadrare il QR code con l'applicativo di Dboot e direttamente agganciarlo all'app una volta che avete installato la vostra base e con il vostro telefono andate a scannerizzare il QR code installate l'app una volta quando avete finito di installare l'app la schermata che vi si presenterà sarà questa è la schermata principale del robot non dovete fare altro che aggiungi una volta che premete aggiungi vi domanderà il QR code della macchina basta sollevare il coperchio una volta sollevato il coperchio sul lato sinistro trovate il QR code questo è da puntare con l'app per poterlo aggiungere nei vostri dispositivi una volta fatto questo automaticamente il robot fa una mappatura della casa e quindi una volta che è completata questo tipo di mappatura lui è pronto per la pulizia dopodiché dovete aver già riempito la vaschetta dell'acqua pulita che vi ricordo è quella sulla destra di acqua pulita o con il detergente consigliato da Ecovax dall'altra parte invece avete lo svuotamento dell'acqua sporca una volta che l'avete fatto partire lui automaticamente carica l'acqua all'interno del serbatoio del robot e inizia la pulizia una volta che lui ha completato correttamente il suo lavaggio ritorna per pulire i mop o altrimenti alla fine della pulizia per potersi ricaricare adesso lui finisce la pulizia vai a inserirci nel suo alloggio e va direttamente a ricaricarsi svuotando l'acqua sporca che ha utilizzato per poter pulire per terra oltre che la pulizia frontale cioè oltre che il lavaggio dei mop vedete che ho ancora lasciato su le plastiche qui sotto trovate il cassettone il pulsante è proprio sopra la testa del robot basta premere e qui è dov'è l'alloggio del sacchetto di aspirazione questa è la parte frontale con la mano andate sotto la testa del robot premete, si apre il vano e questo è lo scarico della polvere il sacchettino è inserito all'interno quindi basta svuotarlo, tirarlo fuori e svuotare il tutto e dopo richiudere tutto quanto frontalmente questa è la mappatura della mia casa sotto trovate dove c'è scritto automatico premete verso l'alto e queste sono tutte le personalizzazioni che si possono fare solo aspirazione, solo lavaggio, lavaggio profondo o altrimenti andare a in quale zone andare a pulire o meno qui è tutta la possibilità di personalizzarlo a preferenza anche il livello dell'acqua può essere basso, medio o alto in base al livello di sporco che c'è all'interno della casa per ritornare nella mappatura basta ripremere verso il basso e si torna di nuovo sulla mappa ragazzi X1 Omni veramente veramente un buon robot vi da una mano in tutto sia nella pulizia sia nell'aspirazione soldi che costa li merita tutti quanti i lavaggi vengono fatti in maniera accurata l'unica pecca che possiamo proprio andare a vedere sono gli angoli gli angoli vengono puliti in maniera meno performante perché le spazzole sono comunque nel retro del D-boot e lui ogni tanto fa questo movimento qua ad esse per poter pulire meglio le zone e negli angolini non riesce tanto ad andare a pulire in maniera precisa per il resto è un signor robot la videocamera frontale fa il suo lavoro potete usufruirla anche come video sorveglianza la qualità del prodotto è eccezionale anche la mappatura anche livello di aspirazione veramente top ragazzi io vi saluto vi ringrazio ciao e alla prossima ciao 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 ciao